Benvenuti a Stefano e Michele Manca, Pino e gli anticorpi, tra poco il loro secondo film Come se non ci fosse un domani. Esatto. Prima domanda, di cosa parla questo film? Parla di tante storie legate a questo tema di orizzonte basso, di come viviamo secondo noi oggigiorno, cioè viviamo come se non ci fosse un domani e queste sono otto storie dove i personaggi si trovano a un bivio e devono decidere cosa fare della loro vita. Avete avuto un grande successo in Russia, come avete fatto a farvi capire in Russia? Bevendo vodka, ci siamo adattati subito. Poi il film ha avuto successo perché non l'hanno capito, il segreto è quello lì. L'anteprima è il 13 di novembre. Assolutamente. Forse il 14 arriverà in tutta la Sardegna, poi si spera anche in un circuito nazionale. Sì, 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 assolutamente sì, ce lo portiamo a mano, quindi mentre tu ti andai a vedere un altro film tipo Joker e ti siedi e dici ma lo aspettavo diverso e stai guardando il nostro praticamente. Volete parlarci un attimo di questa canzone di Tazienda, canzone ufficiale del vostro film? Allora, quella è la cosa più seria del film, probabilmente, ed è un bellissimo regalo che ci hanno fatto i Tazienda. Siamo veramente contenti che ci sia stata questa collaborazione all'interno di questo nostro progetto. È un pezzo meraviglioso da ascoltare. Intanto ridiamo l'appuntamento per il film di Piene degli Anticorpi come se non ci fosse il domani, il 13 in anteprima assoluta al Cityplex Moderno e dal 14 novembre in tutta la Sardegna. Volete aggiungere qualcosa? Allora, sì, dovete venire per forza a vederlo, tanto se andate al cinema non c'è altra possibilità perché potete comprare solo quel biglietto. Ci siamo messi d'accordo con la biglietteria, quindi anche se lo volete comprare per un altro film vi danno quello. E poi ricordatevi che è un film che si capisce bene solo se lo guardate almeno tre volte. Quella prima va bene, ma poi ti torna la voglia, ritorni, eccetera. Vi ringraziamo. Grazie a voi. Appuntamento, 14 novembre in tutti i cinema, come se non ci fosse un domani di Piene degli Anticorpi. Ciao! Yeah!